Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo determinare la distanza tra le seguenti rette parallele, r di equazione 4x più y più 1 uguale 0 e s di equazione 4x più y più 18 uguale 0. Le due rette sono evidentemente parallele in quanto presentano lo stesso coefficiente angolare. Da un punto di vista grafico abbiamo la seguente situazione, la retta r e la retta s. Per risolvere il nostro esercizio dobbiamo scegliere un punto p, diciamo sulla retta r, e determinare la distanza di tale punto dalla retta s. Per comodità di calcoli scegliamo il punto p di coordinate 0-1. Infatti, se assegniamo 0 come ascissa per il punto p, sostituendo 0 all'interno dell'equazione della retta r al posto della x, otteniamo appunto y più 1 uguale 0, quindi y uguale meno 1. 0-1 sono le coordinate del punto p. A questo punto dobbiamo osservare i coefficienti della retta s. Quindi abbiamo a uguale 4, b uguale 1, c uguale 18. Quindi a, b, c. Poi abbiamo xp, cioè l'ascissa del punto p, che è uguale a 0, e yp, cioè l'ordinata del punto p, che è uguale a meno 1. La distanza tra la retta r e la retta s è pari alla distanza del punto p dalla retta s, che è uguale, applichiamo la formula della distanza punto retta, per ottenere al numeratore il modulo di 4 per 0. Quindi possiamo scrivere 4 per, indichiamo il rosso, 0, che è l'ascissa del punto, più 1 per meno 1. Quindi 1 per meno 1. Ancora, più 18. Tutto questo fratto la radice quadrata di 4 al quadrato più 1 al quadrato. Naturalmente abbiamo 4 per 0, 0, più 1 per meno 1, meno 1, più 18, più 17. Quindi al numeratore 17 e al denominatore radice di 4 per 4, 16, più 1, 17. Razionalizzando questa semplice frazione otteniamo come risultato radice di 17, che è proprio la distanza cercata. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video-lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.